...esarcito e non rischierai nessuno in pieno in azione, bene, hai dato fuoco alla tua attività per prendere i soldi dell'assicurazione, lo sappiamo benissimo e ti paghiamo, hai investito una vecchietta mentre la sale con il rosso, noi ti diamo ragione e ti paghiamo, assicurazione, fratelli lo santo e figli, ti dà di più perché con noi hai sempre...